si fa che sto filmando eh va bene ma ci stai ascoltami eh dai questa qua è transitabile eh state attenti al peso eh perché se stai troppo carico davanti ti passa fuori giusto tanto stanotte siete tutti su youtube quindi non ci frega con la stanza che non può fare non lo so comunque ho detto stasera tutti su youtube ma non guardare i film porno dovete guardare i video che carichiamo cerchiamo di capire bene non fate i furbi no perché gli ho detto stasera siete tutti su youtube ma non guardare i film porno ma guardare i video dei leoni no iuporn diglielo mia diglielo diglielo altro che youtube iuporn by leoni esatto infatti non gestarmelo esatto si minimo che ci dicono così diglielo si si ma intanto qua paghi questo è stupidissimo ah il peso cazzo grazie gli altri sono consigli c'è quasi che faccia ti che era questa un po' accastrata eh però questa ti paga vedi che è tutto appeso appena canni il peso sei giù in piedi questa qua è stupida così ma ci sta stai qua tu Vito io vado di là vado di là a prendere i quali sul sassi becca loro due, loro tre loro tre anche lei si 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 ti da il permesso ci sta ci sta in gara è quasi tutto permesso